Ecco che stiamo assistendo alla partenza del pilota Zonzini, Giovanni Zonzini di San Marino, la vettura numero 55, un autobaro. Mancano 7 minuti alla fine dell'assistenza e Zonzini partirà presto. Si prepara, mette le cinture, il navigatore anche si prepara. Il take avendo… ...d смотреть… ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …… Sponsorizzato dalla Carrozzeria Zanasi, Giovanni Zonzini Sponsor principale Carrozzeria Zanasi, seguito da SBM Marco Carrozzeria Zanasi, Hel Esponente in botto se fa a hopper partire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.